Quando devo attaccare? Allora, questo video è realizzato per Kojeki98 Il quale ci ha suggerito questa bella idea di realizzare una nostra cover della canzone della cacca Questo è per te Kojeki98 E one, e two, e scooby-dooy-doo Sento che qualcosa sta spingendo nella pancia Forse un ippopotamo o forse il re di Francia Un gran bastimento che dall'argine si stacca Forse, forse, forse è la mia cacca C'è qualcosa dentro che vorrebbe uscire fuori Forse prigionieri o forse sono fiori Forse sono galline chiuse strette in una sacca Forse, forse, forse è la mia cacca Forse, forse, forse è la mia cacca Forse, forse, forse è la mia cacca Sento un movimento che si vuole liberare Forse sono onde che s'azzuffano nel mare Forse è un esercito glorioso quando attacca Forse, forse, forse è la mia cacca Forse, forse, forse è la mia cacca Forse, forse, forse è la mia cacca Sento un gran tumulto che fra poco esploderà Tremano i tombini sotto tutta la città Forse è un terremoto che scompose, scassa e spacca Forse, forse, forse è la mia cacca Forse, forse, forse è la mia cacca Forse, forse, forse è la mia cacca Grazie a tutti per la visualizzazione E mo' niente abbiamo finito Io svegliavo tre volte Chi se ne frega